Ancora una volta a Padula parliamo di legalità, oggi ricordo di Angelo Vassallo, collega di Paolo Imparato. Che cosa sente di voler dire in questa giornata? Angelo Vassallo più che collega era un mio carissimo amico, l'ho detto nell'intervento, ci incontravamo spesso e volentieri in una segreteria politica. Io di Angelo avevo una grande stima perché era un ottimo amministratore. Purtroppo ancora oggi non si riesce a capire da chi è partito e chi effettivamente ha ucciso Angelo. Sicuramente è stata una grossa perdita per il territorio a sud di Salerno, Cilento e Vallo di Diano. Io per quanto riguarda questa occasione, più che di legalità, oggi ne farei un discorso di moralità. La politica non deve essere un punto di arriva ma deve essere un punto di partenza. Fare l'amministratore deve significare di fare qualcosa per i propri concittadini, cioè di dare qualcosa ai propri concittadini e non di scendere in politica per ricevere dalla carica che si va a rivestire. Quindi io ne faccio un discorso di moralità. Cioè la gente deve imparare che chi riveste un ruolo istituzionale, ma non solo in politica, perché anche chi riveste dei ruoli importanti nella società civile deve essere della massima trasparenza, della massima onestà e in questo particolare momento di mettere in gambo il maggior impegno possibile che può mettere. Io, come ho detto prima anche nell'intervento, dico sempre che è importantissimo prendere quello che noi abbiamo. Ecco, noi qui abbiamo molte risorse che sono il territorio, quindi l'ambiente. Abbiamo un'ottima alimentazione che riguarda quindi il settore turistico. Quindi principalmente puntare su questo, quindi sulla salvaguardia del territorio, come abbiamo fatto anche noi su Pollica, riprendendo un po' tutti quelli che sono i riconoscimenti nell'ambito ambientale. E poi dopo crescere man mano con tantissime altre cose che noi abbiamo, ma magari a volte trascuriamo. Quindi principalmente lavorare con quello che teniamo noi, abbiamo sempre tenuto, ma magari a volte non l'abbiamo saputo riconoscere.